Non chiamate lo smart working, allontanatevi dal concetto di ufficio e di riunioni. Non pensate più al lavoro come produzione di un bene, piuttosto ad un'idea che diventi servizio. Signore e signore, siamo ufficialmente sbarcati nell'era del digital working. Per molti giovani ragazzi una vera e propria salvezza in tempi di covid, con delle professioni che rispettano in pieno il distanziamento sociale e portano a rari spostamenti. Eh sì, perché alla fine il lavoro è tutto qui. Come dove? Direttamente sul vostro smartphone, senza orario o cartellini da timbrare. L'ufficio che può diventare il divano di casa o una caffetteria. Non esiste dress code da rispettare. L'importante è che trionfi la creatività. C'è infatti chi crea gif per whatsapp, chi produce video per gli influencer più noti, sportabili su tutte le piattaforme social, chi modera i contenuti e chi cura una vera e propria linea comunicativa di un brand. Mestieri, si sarebbe detto un tempo, che ora possiamo più comunemente chiamare posizioni, sempre più ricercate. Basti pensare che nell'ultimo anno la domanda è cresciuta del 73%. E siamo solo all'inizio. Lo sviluppo del web è ancora spaventosamente in corso e nuove professioni usciranno fuori per i giovani d'oggi. Basterà avere le skills giuste, rapidità di pensiero e capacità di comunicare al meglio. Tutto a portata di mano, nel palmo della mano. Lavorare così non è mai stato più semplice.